La vita è tanto bella, sai, ma se lo resisti che il sapore ha, è tanto, tanto bella, sai, ma manca la serenità. Se il governo cambierà, poco mi importarà, solo la musica mi salverà. Viva la, viva l'amor, viva la musica. Viva la, viva la musica. Una canzone italiana Una canzone fantastica Che ti entra dentro il cuore Ti entra per amore, per amore direi Una canzone italiana Una canzone romantica Che tu canti sotto voce Oppure in compagnia E allegro ti farà Per l'Italia Io canto queste note Sette note Un po' dolci Un po' amare Ma se penso al cielo E penso al mare Io l'amo L'amo ancora di più Una canzone italiana Una canzone romantica Che ti farà sognare Le bellezze italiane Che non potrai scordare Una canzone italiana Una canzone fantastica Che ti entra dentro il cuore Che ti entra per amore Per amore di lei Per l'Italia Io canto queste note Sette note Un po' dolci Un po' amare Ma se penso al cielo E penso al mare Io l'amo L'amo ancora di più Una canzone italiana Una canzone romantica Che ti farà sognare Le bellezze italiane Che non potrai scordare Una canzone italiana Una canzone romantica Che ti farà sognare Le bellezze italiane Che non potrai scordare Una canzone italiana Canzone romantica Una canzone d'amore Bene, eccoci qua Buongiorno amiche ed amici Di Vivi alla Musica Continua la grande Kermess di ospiti Per Natale Devo dire che si sente L'atmosfera natalizia Andrea Un sacco di buoni Fino adesso ci ha parlato Di belle azioni Buoni propositi Bellissimo È Natale È Natale Si può dare di più Si può dare di più Certo Buongiorno Chiara Come state? Buongiorno Buongiorno Bene, grazie Guarda che bella ragazza Ecco Ieri ci scrivevano Mai donne in studio Ecco qua Vedete Andrea ce ne ha portata Una di molto bella E molto brava Anche Ti saluto E ti presento lo zio Che è andato ieri Dal qua a Ferra A tagliare i capelli Buongiorno caro zio Buongiorno Alberto Si è scalpato Si si Mi sono raggiato ieri Mi sono andato a risparmiare i soldi Buongiorno Alberto Buongiorno Andrea Buongiorno a Chiara Buongiorno a tutti quanti voi Belli, brutti e spiegiuti Oggi San San cosa? San Silvio No? San 18 oggi? San Graziano Vesco Per San Graziano Lo scaldino in mano Così è detto È giusto Insomma lei Anche se dobbiamo dire Che continua a fare caldo In questo dicembre Abbiamo avuto un paio di giorni Sì Sì Fattere Ci sono andato a spiaggia un po' di volte Sì anch'io Nonostante tutto C'era anche poca gente Devo dire San Graziano San Flamiano San Rufo E Zosimo San Graziano Non Graziano San Rufo Sì San Rufo San Rufo Tu quando vai dal parrucchiere sfogli Chiedo da tutti quanti Sfogli nei giornali Sì sì Qualche volta sì Anche tu Tutti 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 Ecco Non so se anche voi trovate Che ci sono un sacco di persone Che non conosco più Perché sono tutti tronisti Questo l'altro Non so se tu segui 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 Ogni tanto segui Ogni tanto segui Ma sinceramente Niente non hai trovato un tronista Di tuo gusto No niente Di tuo gusto Va bene allora Facciamo gli auguri a questo signore qua Che forse Rientra nei gusti Della nostra Chiara Compie 56 anni Brad Pitt Beh Auguri Che dire Va bene Va più che bene Va più che bene Ecco Sì va bene Nonostante di 50 anni Certo A 56 ne ha A Verne È comunque un bell'uomo È un bell'uomo Un bell'uomo Vabbè per noi invece Per il pubblico in generale Una bella attrice Che si chiama Claudia Gerini Lei di anni Le compie 10 in meno Se non sbaglio 46 anni Facciamo tantissimi auguri Auguroni naturalmente Anzi 48 Per la precisione Grazie capitano E poi È di Vittorio Veneto Quindi noi ci occupiamo poco Di sport Vabbè Però insomma Queste figure Importanti Siccome è di Vittorio Veneto 79 anni Ilario Castagnè Non so se è tornato a vivere A Vittorio Veneto Ma magari Molti lo conoscono Quindi Grande allenatore Del Torino Del Toro Di tante altre squadre E poi Abbiamo un contributo musicale Per voi che siete musicisti Viva la musica Molto Molti nostri amici a casa Che hanno già compiuto Anche loro 18 anni Ricorderanno I Rolling Stones Questo gruppo Che ha fatto Come posso dire Ha raccambiato Un po' Le sorde E la musica Introducendo Il rock Assieme ad altri Naturalmente E lui È stato Il chitarrista È tuttora Grande chitarrista Anche se di anni Ne ha 73 Kate Richard Che è insomma Un personaggio Come posso dire Eh lo prenderesti Uno come Kate Richard Eh uno come Kate Richard Sì Quando si parla di Kate Richard Si parla Si prende Si prende Ecco Lui ha fatto Un sacco di film Importanti Salvate il soldato Ryan Schindler List E anche Cara Chiara E anche Guarda Ecco Se ti faccio così No Se ti faccio No Adesso lo facciamo vedere Scusa in televisione Se ti faccio così No Se ti faccio così Eh 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 Telefono a casa Eh Eh Steven Spielberg 73 anni Grandi uno dei più grandi Registri Dei nostri anni I film più importanti Che sono stati fatti Da questo grande regista Grazie capitano E base Concludiamo Quindi c'era anche Cristina Aguilera Ma insomma Andiamo a sentirci Una bella canzone Di Natale Quindi auguri a questi personaggi Chi ci tiene compagnia Caro zio E poi parliamo Con i nostri ospiti Una bella canzone Di Natale Una bella canzone Di Natale Scelta dalla nostra regia Prego Un buon Natale Che usano i cannoni Un buon Natale Che il mondo li perdoni Un buon Natale A chi si sente solo E molto spesso E molto spesso Resta fermo al volo Che il vento Per vincere per vincere Per vincere quel male Per vincere quel male Noi tutti insieme Noi tutti insieme Noi tutti insieme Noi tutti insieme Cantiamo buon Natale Un buon Natale Un buon Natale A chi ha vissuto tanto Ed ogni sera I nostri auguri A chi non ha più forza E sta lottando E sta lottando Per vincere quel male Noi tutti insieme Noi tutti insieme Noi tutti insieme Cantiamo buon Natale Bravi Bravi Bene, 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 bene Quindi tu senti l'atmosfera natalizia Certo, sì Natale è una festa che sento particolare Sì Quindi hai fatto l'albero Eh già da mesi anni Già da maggio No, a maggio no Però l'ho fatto a metà novembre A metà novembre Sei presa avanti Bene, bene, bene Ecco quindi Però in effetti Tu sì Tu l'albero l'hai tagliato Sì No, ho disboscato Hai disboscato Hai disboscato Ecco Cioè hai tagliato l'albero Gli hai dato la nostra Chiara insomma No, tu senti il Natale Sì, sì Sì Senti Sì, va bene, grazie Va bene così Lo spirito dentro Ah, lo spirito dentro Che va sempre a mille Capito, quindi Sì, sì, sì Ho capito Ho capito Va bene, sì Che dici tu? No, no Confermo insomma Confermo quello che stavi dicendo Ma certo Ma ci mancherebbe Le confermiamo tutti Allora invece Adesso volevo Invece confermarvi Che c'è Luca Daudine Che vi saluta Intanto Ciao Luca Ciao un bacione Ciao Un bacione a tutte le grandi Orchestri Andrea e il souvenir Un bacione a Chiara Per non sbagliare Grazie Da Loris Ghiotto Ah grande Loris Ciao Loris Nostra Alma e Claudio Che ci saluta E saluta Chiara E il souvenir Ciao E poi auguri buone feste Un abbraccio a Andrea A tutti i souvenir Un bacione a la nipote Emma Da Anna e Remigio Di Mar di Mago Ciao Anna Sìmi Ciao Emma E poi le leggeremo molti altri Allora Natale sarete? Al Santo Stefano Siamo al Tropico Ah al Santo Stefano Al Santo Tropico Di Lusia Mentre sabato siamo Al Bandiera Gialla A Fonzaso Mi raccomando Che è un altro Un locale di amici Bell'appuntamento Sì Ogni tanto ci andiamo Quindi è un bellissimo locale Dove ci sta bene Si sta in compagnia E eccetera eccetera Ah bene Quindi insomma Vari appuntamenti Che non mancano E poi ricordiamo Per par condicio L'abbiamo detto ieri Chiara che c'era qua Manuel Martini Questa sera Voi sarete Canal Italia Con Manuel Martini Guarda Io l'ho detto a lui Poi invito anche a voi A lui Manuel Ecco Che stasera Adesso come posso dire Come vedete Noi siamo abbastanza liberi Voi mentre salutate così Avete questa espressione Che vi parte dal cuore Dite naturalmente Sempre Viva la musica Ecco Così Se non viva la musica Così la buttate là Il nostro pubblico Sa Che voi Chi state parlando Voi guardate Sarà viva la musica Ecco va bene Va bene Quindi hai preso Questo impegno Va bene dai Devo dire Una bella canzone Insomma Il cd L'avevamo mostrato L'altra volta Se non sbaglio Ecco quindi Il cd tra l'altro Con tante cose Importanti Il cd che sta facendo Veramente Bene in Italia Sì E soprattutto Il brano Trainante È un brano Che è stato scritto Con Giovanni Miani Quello che ha fatto Tutti i vivi Nell'aria Ha partecipato a Sanremo Quindi è un Signorita Un brano Non è solo un brano estivo È un brano Che comunque È un reggaeton Che sta andando Molto bene Va bene allora Andiamo a sentire Un'altra canzone Tra pochi cose Buongiorno E poi naturalmente Sentiremo anche Chiara Cosa ha chiesto A mambo Natale Lo scopriamo tra poco Prego regia Fino sulle nuvole Dimmi come stai Tu che corri E non ti fermi mai Vuoi qualcosa in più Quando hai dividi E ti senti giù Ai di me Ogni respiro Ogni mio silenzio In fondo Non c'è Al mondo Un senso Se non ho te Dimmi come fai A restare fermo Dove sei Vuoi qualcosa in più E ti porti ancora Un po' più su Ai di me Ogni parola Ogni mia carezza In fondo Non c'è Al mondo Un senso Se non ho te Fammi sentire Fino a far male Resterò immobile Voglio l'amore Fino a volare Fino alle nuvole Fino sulle nuvole Fino amore sulle nuvole Fino alle 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 nuvole Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua, abbiamo un sacco di bei compleanni da festeggiare. Eri nel backstage con lo zio? Allora, in backstage con lo zio. Va bene, adesso secondo me abbiamo un picco di audience, di ascolti, perché tutti stanno aspettando di sapere da Chiara qual è il suo desiderio. Noi anch'io sono qui molto attento. Il mio desiderio più grande è quello di trovare l'amore. Ho detto che se mi porta un bel ragazzo sotto l'albero, non in miniatura, ma un bel pacco grande. Ah, no, ma il pacco è largo così, ma è lungo. Sì, è lungo. Ecco, quindi... Ma noi... Sì, ma penso che si possa fare, no? Insomma, la ragazza mi sembra che abbia tutti i requisiti. Sono un po' sfortunata. Noi possiamo mettere una buona parola comunque. Ti ringrazio, grazie. Quindi sei fortunata nel gioco. Neanche. No, nemmeno quello. Va bene. Allora, sediamo lo zio che cosa ci dice. Il nostro ciccio di casa Franco Vento che ti fa gli auguri. Ciccio Amarsia, ci fa gli auguri di noi. E poi il nostro Claudio Cararo di Sardegna Sincoli che mi ha consigliato di mettere la peccola nel presello e lo faremo, grazie, grazie. Ah, ho capito, molto bene, molto bene. Allora, un po' di saluti ancora e poi andiamo naturalmente anche con i buongiorno. Non chiedo ad Andrea cosa vuole da Babbo Natale, no, perché noi ormai i soldi, no, non ci interessa. Ma no, più che altro io vorrei che un po' il mondo si mette a posto, che ci fosse un po' la pace del mondo, che ci fossero tutte le cose. Sì, certo. Sì, certo. No, io desidererei che tutti voi lo passiate con tanta serenità e tanta salute. Basta, basta quello. Perché i soldi, ragazzi... Questo, secondo me, è importante. No, c'è mai soldi quando vengono, servono, però... Servono, insomma. Però l'importante è la salute e la serenità. Quella è la cosa che mi auguro più sincero che facciamo tutti voi di Buon Natale. Ecco bene. E anche per me. E questo è importante. E allora, mentre aspettiamo qualche candidato per la nostra Chiara, non so, anche voi, amiche e amici a casa, avete un nipote da sistemare, qualcuno, insomma. È una brava ragazza. Io ne ho tre, quattro, non c'è se devo sistemare. Eh, tu di quanti. Facciamo un'agenzia matrimoniale. Va bene. Andiamo con i Buongiorno. Prego, regia. Eccoci qua, facciamo un bel bagno di cose positive, naturalmente. E chissà che insieme a questo salti fuori anche... Eh, intanto Andrea, cioè, Chiara vi salutava, Luca Daudine, ma anche con questa foto. Quindi si è preso la briga di fotografare la televisione. Ciao Luca. Grazie, mandi, mandi. Luca, Mastro Magico, che avrà in gita con noi quando ci prendiamo lì a Mastro. 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 Guarda qui. Guarda qua, Medeo, Luisa, Luciano, Padella, eh. Antonio e Luca. Antonio, sì, sì, è due. Ecco, eccolo qua, che mandano con questo bel saluto a Medeo, Luisa e Luciano. Eh, bella questa foto. Allora, un bacio da Laura e Bianca stamattina. Sono pronto a tutto. Buongiorno, eh, uno che rischia questo. Eh, molto bene. Silvana, basta un messaggio, un abbraccio, una frase, uno sguardo. Il nostro umore cambia. Buongiorno. Raffaella, per te, per augurarti una buona giornata. Non manca Paperino, ovviazione natalizia, pista, voglio un caffè, sono in ritardo per il buongiorno. Buon mercoledì da Paola. Miriam, buongiorno e buon mercoledì. Monica che ci manda il suo presepe con l'albero. Grazie, amici. Aspetto le foto anche vostra, però, vicino all'albero. Fatevi un selfie che così li mettiamo sul Natale. Maria Luisa, buongiorno a te che stai leggendo. Che questa giornata ti doni gioia per te, Andrea. Ciao. Amore per la Chiara e tanta serenità per tutti noi e gli altri. Allora, grazie a Rossella. Buongiorno. Ciao, buona giornata. Che mi manda il suo buongiorno. Oh, guarda qua, l'orchestra di Linda Bischero e Gianni, Babbo Natale. Ecco, vedi. Vedi, vedi. Che potevamo dire al nostro Igor che intercedesse per te. E poi Giovanna che firma, vedete, due canale, viva la musica, a volte basta un ciao per iniziare bene la giornata. Giovanna un'altra, nella nostra Giovanna di Rovigo, buona giornata. Ciao. Franca. L'amore, l'amicizia, la sincerità e l'educazione rispetto alla serenità sono i regali più belli. E poi gli angeli non potevano essere dappertutto, perciò Dio ha creato i nonni, lo ricordiamo. Carla, sorride il nuovo giorno, lascia che il tuo cuore si prenda cura di te. Cioè, Alma e Claudio, che buongiorno, buon mercoledì, viva la musica, ma attenzione perché poi hanno fatto anche qualcosa per voi. Buongiorno da Arianna, Alfredo che ci manda queste belle foto. Ciao, Alfredo, ciao Manuela, grazie. Bellissime. E poi tra poco festeggeremo anche quel signore, intanto Adriano, augurare semplicemente buongiorno a un mondo di esserci senza rumore. E guarda qua cosa hanno fatto, Andrea e Chiara, buone feste. Eh, la nostra Alma ormai è diventata veramente una grafica. Grazie. Facciamo un bel applauso per il nostro pubblico e tra poco, naturalmente, parleremo anche dei progetti futuri, dei souvenir, anche di questo viaggio. Visto che ci siamo, a meno che non sia già tutto pieno. No, vabbè. C'è qualche posto? Il pulmo è chiuso, stiamo facendo solo un pulmo. Il pulmo, sì, sì. Bene. I pulmo non sono mai abbastanza. Eh, una corsia intera di pulmo. Caro zio. Andrei a vedere una bella canzone. La bella canzone, Che Sarà, vediamo. Prego. Che sarà, che sarà, che sarà. Non ho bisogno più di niente Adesso che Mi illumini d'amore immenso fuori e dentro Credimi, se puoi, credimi, se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Non ho desideri scritti in alto, che volano Ogni pensiero indipendente dal mio corpo Credimi, se puoi Credimi, perché Farei del male solo ancora a me Qui Grandi spazi e poi noi Grandi spazi e poi noi C'è gli aperti che ormai Non si chiudono più C'è bisogno di vivere da qui Vivimi senza paura Che sia una vita o che sia un'ora Non lasciare libero o disperso Questo mio spazio adesso aperto Ti prego Vivimi senza vergogna Anche se hai tutto il mondo contro Lascia l'apparenza e prendi senso E ascolta quello che ho qui dentro Così diventi un grande quadro Che dentro me Che dentro me Ricopre una parete bianca Un po' anche stanca Credimi, se puoi Credimi, se puoi Credimi, perché Credimi, perché Farei del male solo ancora a me Qui Tra le cose che ho Ho qualcosa di più Che non ho avuto mai Ho bisogno di vivermi di più Vivimi senza paura Che sia una vita o che sia un'ora Non lasciare libero o disperso Questo mio spazio adesso aperto Ti prego Vivimi senza vergogna Anche se hai tutto il mondo contro Lascia l'apparenza e prendi senso E ascolta quello che ho qui dentro E hai aperto in me La fantasia De te sei giorni di un'illimitata La zoia Hai preso me Sei la regia Mi inquadri e poi Mi sposti in base alla tua idea Vedimi senza paura Anche se hai tutto il mondo contro Lascia l'apparenza e prendi senso E ascolta quello che ho qui dentro Bella, bella, bella Ho visto che ti emozioni Sì, io sono una che si emoziona Piaggio ogni volta che la facciamo Ma quindi è anche una ragazza Come vedete anche di cuore Possiamo già dire i difetti Che così chi chiama sa già Ci sono dei difetti che tu hai? Ovviamente sì, li avrò Pochi, scopriteli Sono da scoprire Sono da scoprire Vabbè, ci stiamo su questo Caro zio, prima che faccia un po' di saluti Il video del giorno Ci manda un bel saluto Dalla famiglia Rossi Ci ringrazia per il calendario Ci fa gli auguri Noi contraccambiamo Poi il nostro Gianna e Sante Di Grumolo Che vi salutano Vi fanno gli auguri Ciao carissimi Ciao E poi manda un saluto particolare Alla chiesetta di Fontane Bianche Un grazie per il pacco ricevuto Non serviva Grazie Tanti auguri ai cavoli Allora un saluto ai mitici Suvenir Davide D'Alesiano Un bacio a tutti da Lori Ciao Davide Un caro saluto a Andrea e Chiara Tutte le lega Al compagnia dei souvenir Da Rita e Angelo Un caro saluto a Andrea Grande voce Chiara, bravissima E sempre con un sorriso per tutti Ci dice Marco Stella Ciao Marco E poi un caro saluto A Bravo e competente Andrea Alla sua bella orchestra Alla bella Chiara Da Umberto Ciao Umberto Ciao E poi un caro saluto Fatemi vedere Un compleanno Un bacio da Laura e Bianca E tutti gli altri Poi ho anche delle foto Da farvi vedere Allora facciamo così Prima del video del giorno Vediamo di recuperare Un po' di immagini Che ci sono arrivate Qualche secondo soltanto Eccoci qua Allora intanto Grazie naturalmente Anche a Lori Che ci manda Il suo pensiero Di oggi Grazie Lori Un buon Natale A tutti i souvenir Da Claudio Che ci manda Questa bella foto Claudio grazie Ecco ma questo È un tatuaggio Che hai tu Ha una scritta Che si chiama I love Love me for I am Amami per ciò che sono Ah Amami per ciò che sono Bene 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 Allora Gabri Dorme nella luna Si sveglia il sole Felice buongiorno Con tutto il mio cuore Vabbè Questa una bambina ci sta Guarda cosa ha fatto Iole Guarda cosa ha fatto Guarda caro zio Guarda guarda Siamo dentro le palle E che hai detto così Però È bella Stiamo scherzando Iole Bello bello Veramente bella Grazie Iole di cuore E la terremo per Natale Queste immagini Grazie Maurizio E tu buongiorno E anche Umberto Che vi faceva i complimenti Alla nostra missione È di gioire Di ogni singolo istante Della vita E guarda qua Guarda la cara amica Grazie Rita Qui abbiamo anche Gli amici Rita, Angelo e Rocco E Luigina E l'Allegra Compagnia Che dicono Alla cara amica Silvana Di guarire presto E anche da parte nostra Auguroni chiaramente E guarda qua L'Allegra Compagnia Ancora ci manda Queste belle foto Con questo collage Straordinario Devo dire Va bene Tra poco faremo I compleanni Ma prima Il video del giorno Con Ottica Luxe Lo ricordo Che tu hai Il trattamento antiriflesso Sì Ah ecco bene Perché 100 euro Sull'acquisto Di un occhiale Con lente antiriflesso È la cifra Che potete risparmiare Da Ottica Luxe Il mio amico Andrea Invia il tichiero A Padova Vi ricordo Questa visita Importantissima Che dura un'ora Che è gratuita Lui non è solo ottico Ma è anche ottometrista Quindi si è laureato Ma nasce Da una bottega di ottici Il papà era ottico Quindi ha tutta una storia Che fa sì Che questo suo Non sia un lavoro Ma una passione E forse per questo È molto bravo Lo ricordo Che lo conosco Da sempre Quindi 049 86 42 034 La visita Bisogna prenotarla Ecco è in zona Padova Ovest Vicino al casello di Padova Ovest Un chilometro Più o meno È facilissimo da trovare Di fronte alla chiesa Di Altichiero Non sbagliate Ottica Luxe Ci offre Caro zio Il video del giorno Che è L'orchestra in canto L'orchestra in canto Con la voce della nostra Anna Arriva My Heart Will Go Iniziamo a sognare Dai Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces Between us You have come to show you Go on Near far Whatever you are Whatever you are I believe that my heart will go more Once more you open the door And you're here in my heart And you're here in my heart And my heart will go on At all La voce di Anna La voce di Anna And I love you One truth that I hope to In my life will always come long Do you have you Deep in my heart Wherever you are Wherever you are I believe that my heart will go more Much more you open the door And you'll hear in my heart And my heart will call it all Grande Genesio Continuiamo a sognare così Va! For me, there's nothing I fear There's nothing I hold And my heart will go on Be safe forever this way You are safe with my heart And my heart will go on and all A tutti voi, my heart will go, la voce di Anna Grazie, grazie Grazie davvero In 35 anni di passione e studi come ottico optometrista Ho risolto molti casi Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente E consiglio la migliore qualità ed estetica Sia per le montature che per le lenti Progressive o ad alta definizione Vederci bene è importante E soddisfare le persone mi rende felice Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita Ottica Lux, in via Altighiero, a Padova Molto bene, molto bene Allora abbiamo qualche altra cosa Intanto tu va per queste feste Hai pronto il vestito? Chiara? Ma improvvisi Improvvisi, improvvisi C'è la poesia di Natale Ecco la poesia che non l'abbiamo mai sentita Andrea ci peccato che non abbiamo una musica da creare Il sottofondo Purtroppo no, dovevamo pensarci Prima però recita la Buon Natale, buone feste La mia mamma mi riveste, mi riveste di celeste Buon Natale, buone feste Eh beh, un applauso però Un applauso ce l'abbiamo Eh sì, più o meno si è racchetta Allora andiamo per il compleanni Attenzione poi abbiamo tantissime persone che abbiamo scritto Intanto auguroni a Pier Gianni Che compie gli anni dalla moglie e tutta la famiglia Panozzo Ciao Auguroni, auguroni cari suoi Eccola qua anche da Rappella Carra Auguri, auguri Andiamo in sequenza con le foto che arrivano L'abbiamo visto il nostro Igor con Gianni Babbo Natale Queste le abbiamo viste Eccoci qua, attenzione perché adesso abbiamo anche altri compleanni Grazie dalla nostra campionessa Patrizia che saluta i mitici souvenir Ciao Patrizia E anche lei a tutti voi di Viva la Musica Vedi i mitici souvenir Anche scritto anche lei Quindi personalizza Allora facciamo gli auguri di buon compleanno a Franca Da tutti gli amici Che qui vediamo in gondola a Venezia Auguroni Auguri, auguri, auguri In questa gita romantica Allora Oggi a Legnaro compie 18 anni Luca Falasco Tantissimi auguri da mamma Lucia Papà Dario Il fratello Mattia Con Anna Gli zii e i cugini Auguroni a questo nostro giovane amico Eccolo qua Molto bene E oggi buon compleanno a Diana Pastore di Albignaso Auguroni dai genitori Antonietta e Alfredo Auguri, qui la vediamo in sala da ballo Quindi sicuramente un'appassionata ballerina Auguroni Cara Diana Auguri di cuore E poi auguri a Mariano da Gran Torta Che oggi compie gli anni naturalmente a tutta la sua famiglia Eccolo qua che gli hanno preparato anche questa bella cosa Con la grafica da compleanno Grazie auguroni Caro Mariano E auguri buon compleanno a Luigi Da San Pietro in Gu Che ha compiuto gli anni ieri Ma insomma tutta la sua famiglia Ieri avevamo dei problemi con Whatsapp Quindi auguri Continua la festa per il nostro Luigi di San Pietro in Gu E Pier Gianni Che arriva anche dalla cognata Maria Lucia Nipote Sanna Riccardo Ecco che si associano Ieri c'era arrivata anche questa Allora Ciao sono Monica Vero salutare tutti voi Con questa Sono io Poi c'è il Krampus San Daniele del Friuli Quindi questa manifestazione Dove ci sono questi mostri Dove il fidanzato Walter E noi abbiamo Quindi salutiamo Monica e Walter Noi abbiamo il nostro Daniele Che fa queste maschere Insomma e qui dice Eccomi disponibile da subito Hai capito? Eccolo qua guarda Quindi anche con la divisa Insomma ci pensa caro amico Ecco e quindi O se no vai a trovare Quando sono in il souvenir E fai una proposta Come si deve Come si deve Va bene Ecco poi guardate questo Per esempio ho fatto dentro Questo albero A questo incavo Particolare Grazie naturalmente a Giovanna Che ce la mandava Allora abbiamo il momento Del paginone Prego zio Ben saluto Renzo Di Rovigo A voi tutti quanti Ciao Renzo Tanti amoroni Un saluto anche Ho visto a Renzo Ed Elena Di Abano Grande Un bacione Ciao Ci sono molti Allora io vado al paginone Se non prima avervi mostrato Questi due babbo natali Eccoli qua Devo dire Eh beh beh Passa Però dite Che abbiamo un pubblico Grazie Grazie Luca Di Udine Straordinario Va bene grazie Ormai non c'è più limite Questo è molto carino Perché fate le cose Veramente sempre Troppo belle E abbiamo pubblicato Anche gli ascolti Del mese di novembre E anche di ottobre Insomma in tutti questi mesi Su Facebook Avrete visto Insomma insomma La trasmissione più seguita In fascia pranzo Quindi grazie Ancora di cuore Veramente Siamo aumentati anche a novembre Grazie a voi Allora Grazie pubblico Andiamo al paginone Con la bella promozione Dei mobilifici Rampazzo Tra poco la vediamo Eccoci qua Che se volete cambiare Un arrendamento Naturalmente La cucina Il camera Il soggiorno Salotto Che ormai da tempo Volevate cambiare Ecco quindi Non solo non dovete Prendere qualcuno Per portarlo via Ma addirittura Vi danno una valutazione Che arriva fino a 2000 euro Il nuovo mobile Lo pagate con gli sconti Che loro hanno sempre E potete pagarli a 50 euro Al mese Bisogna chiamare il numero Per avere le informazioni Naturalmente Su questa promozione È valida Solo sul centro Di Piove di Sacco Padova Lo 049 97 029 92 Allora Naturalmente Lui ha aperto Durante la settimana Ma si balla Tutti i giovedì Con Alex DJ Pizza Bibita E ballo 10 euro Quindi sono una formula Veramente molto conveniente Pronto il grande pranzo Di Natale 40 euro Lo ricordo DJ Giorgio Per farvi ballare I bambini avranno L'animazione Con Genius Quindi anche i bambini Si potranno divertire E anche voi Il 29 dicembre Keiko e Alex Con Rita del Mare E Marta Morello Ospiti Con la formula Della pizza 15 euro Oppure andate solo a ballare 6 euro Con Bibita E poi gli appuntamenti Dopo Capodanno Di cui parleremo Con i Rodigini Galassi Renzo Biondi E anche DJ Renato DJ Luca Il primo dell'anno Andiamo invece Dagli amici Del Bosco dell'arte Osigo di Fregona Che tutte le domeniche Pomeriggio In questo locale Che è innovativo Quindi io lo dico Anche a chi non lo conosceva Video Liscio In allegria Cioè si balla Invece solo che col DJ Del disco Liscio Anche con i video Delle orchestre E domenica ospite Oltre ai video Ci sarà quindi Adriano Pizzol Che canterà E quindi sarà un ospite Un'aggiunta Per regalarvi Ancora un pomeriggio Più ricco Osigo di Fregona Via Castagnola Come avete visto E vi ricordo Sempre a stessa organizzazione Per Capodanno Vi aspetta col cenone Di gala Con la Crepaldi Band All'ex filande Di Santa Lucia Di Piave Andiamo adesso All'Hollywood di Schio In provincia di Vicenza Sabato Sabato sarete con Seggio Cremonese Sala Cacao Il karaoke Con Sonia Alex E il grande liscio Il sabato sera Con la pizzeria aperta Domenica Invece ci sarà Una serata Il ballo liscio Con Eros Balbusa Ingresso ridotto A chi viene Trovarci al sabato Quindi tenete il biglietto E avete Naturalmente Anche la pizzeria aperta Il Dance in Nevada Terrossa di Ronca Giovedì si balla Con Nadia Nadì Venerdì con ingresso Gratuito Cristian Bortolami Sala 2 Jubox Sabato Gianni Dego Latino Chizomba Domenica pomeriggio E sera Il Nevada Anna Ferrari E andiamo Aristo Dance In Desirano Edifonte Venerdì è chiuso Sabato si balla Con Claudio Pagina 4 Domenica dalle 16 Sergio e Mirella Tutte le sere C'è uno spuntino Ricordiamo gli appuntamenti Delle delizie d'inverno Sabato prossimo Sarà a cena E domenica Pranzo a 25 euro Questo ricchissimo menù E poi si balla E poi sabato 4 E domenica 5 Di gennaio Gli altri due appuntamenti Pronto il pranzo di Natale 37 euro I bambini Naturalmente Fino a 10 anni Pagano invece Il 50% Fino a due anni Non pagano Andiamo alla sorgente Ristorante Pizzeria Rovolon Sui Colli Ugani Con la promozione Della pizza A 13 euro Antipasto alla casa Pizza scelta Birra o bibita E caffè Poi si balla Bisogna prenotare Il venerdì Serata Serata in musica e ballo Con il DJ Andrea Satin Chi vuole C'è anche la grigliata All'abbraccio Anche qui se la prenotate meglio Domenica Pranzo della casa Aperto a tutti Alla sera La cena e ballo Con il DJ Paolo Aperte le iscrizioni Per il pranzo di Natale A 35 euro 15 euro Per i bambini Fino a 10 anni E il grande Capodanno Con il DJ Renato A 65 euro Andiamo a nord-est In questa caldonia e vicenza Questa sera Tiziano Tonelli Con don ingresso Maggio Speciale promo pizza 10 euro Se volete cenare lì Con l'ingresso Venerdì Rodigini Che saranno ospiti Qui da noi Sabato Enzo Allegri Domenica Pomeriggio E sera Filippo Timillero E al Palmariva Fossalto di Portogruaro Venerdì Rossella Ferrari E in Casanova Sabato Al Palmariva Giancarlo La Santa Monica Bende Domenica Pomeriggio E sera Maurizio Medeo Anche qui Sapete che c'è Il ristorante Pizzeria Con le formule Che comprendono L'ingresso Gli amici del ballo Vi aspettano Per il grande Capodanno C'era un numero Di telefono Sbagliato Adesso l'abbiamo Corretto Per le prenotazioni Eccolo qua Il 349 3316 717 28 euro Ricco Buffet Lo ricordo Alice Di Abason Sarete Con questa bella orchestra Coadiubati Del DJ Paolo Bortolani Ci sarà anche Lo zio Luciano Quindi prenotatevi Per tempo Insomma Una promozione Veramente interessante Un prezzo Accessibilissimo Tilt Pizzeria Campagnola Di Brugine Domani sera Ballo moderato E Buffet Venerdì Il tilt Diventa Il latino Da Cuba A Puerto Rico Con il DJ Stefano Zalin Sabato E domenica Gli appuntamenti Del disco Liscio Domenica Pomeriggio E sera Ristorante E pizzeria Aperti Naturalmente Con le promozioni DJ Paolo Bortolami In tour Ogni domenica Pomeriggio Alla Pergola A Codognè Poi lui Il 19 gennaio Ha organizzato Questo pullman Da Santa Giustinino Parte alle 2 del pomeriggio 25 euro Cena E ballo Con la pizza E poi tornate a casa Alle 10 e 30 Naturalmente Si va alla Pergola Dove lui lavora L'Aquario Sant'Andrea A Capodarsico E domenica Stesso privilegiato Omar Lambertini E tutte le sale aperte Lo stesso sabato Dove i protagonisti Ci saranno i Rodigini Domenica Pomeriggio E sera Magri Lisoni E siamo Alla ristorante Pizzeria Alle Fontane Bianche A Fratte Di Santa Giustinincolle Grandi sale Per banchetti Per le vostre occasioni speciali Venerdì Sabato Domenica Anche pizzeria Aperte Le prenotazioni Per Capodanno E per il pranzo Di Natale Tantissime le specialità Domenica Si balla Con il DJ Paolo Bortolami Lo ricordo E il menù Di Natale A tenervi in compagnia L'Hollywood Di Salzano Sabato Giuliani Baroni E domenica Pomeriggio E sera Luca Roncari Con la pizzeria Aperta Era il nostro paginone E adesso La pubblicità A tra poco Mobilifici Rampazzo Lanciano La più grande Iniziativa Rivolta A chi deve Cambiare L'arredo Della propria Casa Questo mese Ritiro E valutazione Dei tuoi mobili Usati Fino a 2000 euro E in più Finanziamento A tasso Agevolato A partire Da 50 euro Al mese E' arrivato Il momento Di cambiare Finalmente Puoi avere Il ritiro Del tuo Arredamento Usato Con una valutazione Fino a 2000 euro Mobilifici Rampazzo Promozione Valida Sono nel punto Vendita Di Piove Di Sacco A Padova Inizia lui Franzen Eccoci qua Prego Leggo Leggo in fondo I tuoi pensieri Cerco E non sospiro I tuoi desideri Mostrami La parte Del tuo cuore Che Nascondi Nel profondo Ascolto Ascolto Tutti i tuoi silenzi Come è bello Per termi Dentro i tuoi occhi Sono io il tuo sogno Quando resti sveglia E senza niente Intorno Tu Che sei La forza Il coraggio La mette In un viaggio Il senso Dei giorni Miei Io ci Sarò Lavoro Per sempre Amore Accraggiami Voglio E proteggerti Siamo il sole In un giorno Di pioggia Con l'angostri Ringimi Bacciami L'anima Siamo musica Vera Che resta Daniele Tra miliardi Di persone Ti ho riconosciuto Nella confusione Sciogli quel sorriso Dal tuo viso E andiamo via Lontano E sei davvero importante In ogni mio istante Sei la melodia E non passerai Mai Amore Accraggiami Voglio Proteggerti Siamo il sole In un giorno Di pioggia Da lontano Da lontano Da lontano In un giorno In un giorno Siamo musica Siamo musica Per la terrestre Siamo musica Per la terrestre Siamo musica Per la terrestre Siamo musica In Francia Jack Marco Grazie Grazie davvero Facciamo partire L'ultima canzone Salutiamo Marco Iniegara Un saluto A questa bellissima Al Melody Ricordiamo Allora Questa bellissima orchestra Complimenti Andrea E suvenire Per le bellissime serate Ci vediamo Al troppi Dal 26 Franca Di Monselice Aspettiamo Franca Salutiamo il grande Andrea Bevissima Chiareta Un grosso bacione Maurizio Gazzetta Giuliano Iville Estense Poi un abbraccio Da Chiara Andrea Da Daniele Spolone Naturalmente Mirko Goldin Di Adria Che vi salutano Ciao Mirko E poi un saluto A Andrea Un'orchestra del top Da Anna Che vi saluta Ciao Ciao Anna E poi Mirko Daniele Emanue Di Castelbaldo Ciao carissimi E Elsa Da Castelfranco Veneto E i Rabaltai Che vi salutano E Patrizia E tutti gli altri Che se no Non riesco A leggere Caro zio E poi faccio vedere Le foto al volo Il nostro Mattia Di Valdobiale E anche la Colletta Che vi salutano Ciao Ciao E viva Valdobiale Eh sì E viva E viva il proseguo E poi un buon Compleano Per Diana Pastore Di Albignano Dal nostro Amedeo Grazie Recupereremo Signorita Perché ormai Siamo in chiusura I prossimi giorni Andrea Ma tanto la stiamo Facendo vedere Già da giorni Auguroni a Piergiani Ancora Vediamo velocissimamente Le vostre foto Al volo Grazie Auguri Naturalmente Salutiamo tutti gli amici Che hanno mandato Queste belle foto Grazie veramente Grazie di cuore Auguroni a Franca Auguri al nostro Luca Falasco Auguroni a Diana Pastore Al nostro Mariano Di Grantorto E al nostro Luigi San Pietringù A Piergiani Ai nostri Papo Natali E al Come è il nostro Pretendente E a questo Sulla forma di formaggio Serena Che ci mandava Questo presepio Grazie di cuore Andrea E so che avremo Però Io vi saluto E siamo qua Appunto Che mi porti tanta salute Tanta serenità Che quella è la cosa Più importante E tanti pretendenti Per la nostra E a questo E fate l'amore Fate l'amore Non fate la guerra Non fate la guerra Bene bene Grazie ai souvenir Domani con noi Grazie a voi Grazie Avremo caro zio Avremo Sole luna Sole luna Grazie al nostro Capitamico E con noi tra poco Il nostro direttore Angelo Spizzato Con il senero Viva la musica Ciao Invento delle storie Che quasi fanno ridere Mia cara signorita Dovrà imparare a vivere Ora che mi guardi Signorita La mia vita In fumo va In fumo va Signorita Non mi prenderai stasera Sai che ti resisterò Ti resisterò Signorita Con la palettua di seta Parli sulla pista Buona Sai che sta guardando Il corpo tuo Che in vita L'anima che già si invieta Provo qui tu signorita Provo qui mua sale Disperti Signorita Con la palettua di seta Con la palettua di seta Grazie a tutti